Nella mattinata odierna i carabinieri del comando provinciale di Napoli e del reparto territoriale di Mondragone hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli all'esito di articolate indagini coordinate dalla direzione distrettuale antimafia nei confronti di cinque soggetti ritenuti gravemente indiziati a vario titolo di omicidio tentato omicidio porto e detenzione illegale di armi nonché detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti reati aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di avvantaggiare consolidando nel prestigio del predominio sul territorio napoletano del gruppo camorristico Sorianiello le indagini hanno consentito di ricostruire in tempi rapidi la dinamica il movente ed i responsabili del feroce agguato in danno ai due cittadini nigeriani avvenuto a Castelvolturno il 10 settembre del 2020 in particolare si è accertato che l'agguato omicida era mutato nel gruppo criminale dalla 99 articolazione del cram Sorianiello a seguito della sottrazione di una busta contenente sostanza stupefacente marijuana e cocaina per un valore di mercato di circa 40 mila euro destinata a rifornire la piazza di spaccio della 99 così chiamata perché sita nell'omonimo complesso abitativo del rione Traiano il gesto per vendicarsi del furto subito e per assicurarsi una posizione di supremazia sul territorio in quanto la punizione dei responsabili avrebbe conseguito la finalità di impedire il ripetersi di episodi analoghi la spedizione punitiva è stata attuata con tre diversi viaggi andata e ritorno da rione Traiano a Castelvolturno località da cui provenivano i due nigeriani il primo viaggio per l'ustrativo della zona ha dato esito negativo perché i due nigeriani non erano stati rintracciati il secondo viaggio a seguito del quale i due furono rinvenuti si era concluso con l'apparente intesa da parte degli indagati di corrispondere ai due nigeriani la somma di 2000 euro dagli stessi richiesta per la restituzione dello stupefacente il terzo ed ultimo viaggio è culminato nell'omicidio dopo che si erano rifiutati di consegnare lo stupefacente se prima non avessero ricevuto la somma di denaro richiesta grazie a tutti